I carabinieri hanno arrestato tre persone per detenzione di droga e fini di spaccio. A San Raffaele Cimena, nel Chivassese, i militari della stazione di Castiglione Torinese hanno arrestato un italiano di 44 anni pregiudicato, abitante a Chivasso. L'uomo è stato controllato a bordo di un furgone e sul mezzo sono stati trovati una busta contenente 23 grammi di cocaina, decine di buste pronte per essere riempite di droga, tutto il necessario per il confezionamento delle dosi, un bilancino digitale e 740 euro in contanti. A Torino, invece, in corso a Ferrucci, i militari hanno fermato un italiano di 29 anni, residente nel capoluogo. In Tasca nascondeva 20 grammi di droga tra marijuana e hashish e 500 euro in contanti. Infine, a Nichelino, stessa sorte, è toccata una donna di 45 anni, senza fissa dimora ma domiciliata in paese. La pusher è stata fermata dai carabinieri subito dopo aver venduto una dose di crack a un uomo di 46 anni. Durante il controllo è stata trovata in possesso di un ovulo contenente varie dosi della medesima sostanza che nascondeva in bocca. L'acquirente è stato segnalato alla locale prefettura con l'assuntore di stupefacenti.